Canta vittoria il centrodestra abruzzese che trionfa portando a casa un risultato importante negli amministrativi e nei comuni più grandi. Risultati che fanno esultare tutta la classe dirigente di centrodestra. È il presidente della regione Marco Marzilio, oggi impegnato in una serie di appuntamenti romani, a sottolineare a poche ore dalla chiusura delle urne che con le vittorie al primo turno a Pescara e Montesilvano si completa un quadro di grande successo per il centrodestra abruzzese. Dopo il risultato degli europei, che ha visto crescere le forze del centrodestra nel loro complesso, anche le amministrative segnano una netta avanzata. Da questo turno elettorale, spiega Marzilio, ne esce rafforzato il governo regionale e questa vittoria sarà di stimolo per un'azione ancora più incisiva di cambiamento e di sviluppo. A dare manforte al presidente della regione è anche il popolo del web, che sul suo profilo ufficiale di Facebook commenta e sprona Marzilio a conquistare anche le altre città abruzzesi. Soddisfatto anche il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Telvardo Sigismondi, per il quale il risultato degli europei conferma la crescita in Abruzzo di Fratelli d'Italia. Il confronto con le precedenti tornate elettorali, aggiunge Sigismondi, dimostra che il partito ha ampliato il suo consenso frutto del buon lavoro quotidiano della classe dirigente dell'intero centrodestra e del presidente della regione, Marco Marzilio. Dello stesso tenore anche il parere del sindaco dell'Aquila e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia per Luigi Biondi. Il centrodestra in città è una realtà consolidata, sottolinea il primo cittadino dell'Aquila, ed è quello che ha portato alla vittoria del 2017 con la preponderanza della Lega, ma anche con i risultati importanti di Forza Italia. L'Aquila, spiega Biondi, è tra le top ten del maggior consenso per il partito della Meloni. Ora, è l'auspicio del sindaco dell'Aquila, occhi puntati su Elisabetta De Blasis, che potrebbe mettere un piede nel Parlamento europeo con un gioco di dimissioni. Ritiene che il risultato elettorale, con la netta affermazione del partito di Matteo Salvini, sia il punto di partenza per rimettere in discussione la tenuta del governo il parlamentare di Forza Italia, Nazario Pagano. Per il coordinatore regionale del partito di Berlusconi, in Abruzzo Forza Italia attiene, tenuto conto che in questo caso si è trattato di un voto di opinione. Una cosa pare certa per Pagano, la maggioranza giallo-verde difficilmente potrà tenere o corre voltare pagina e dare un nuovo governo a questo paese.